Nel mondo si inventa veramente di tutto ma questa volta nessuno nell'epoca dei droni avrebbe immaginato che si potesse pilotare uno skate in miniatura che fa veramente di tutto ebbene con questa nuova diavoleria dotata di mini salti e rampe si può far finta di essere uno skater professionista e sbizzarrirsi senza slogarsi i cavigli o prendere brutte botte direttamente dal vostro divano di casa una novità questa nel campo dei radiocomandati che sfrutta tecnologie di ultima generazione